Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 novembre mercoledì, vi ricordo che questa sera ci sarà Matrix, un po' prima di ieri sera si spesa, spera siamo partiti praticamente dopo mezzanotte. I temi della giornata sono interessanti perché ci sono tante cose che vale la pena commentare. Intanto il primo tema è ovviamente ancora quello del calcio, il commento più interessante è quello secondo me di Sconcerti sul Corriere della Sera che dice il problema qua non è cacciare Ventura e Tavecchio perché bisognerà pure cacciarli, ovviamente ci sono tutte le polemiche sull'allenatore, sul presidente della federazione italiana gioco calcio, il coni malagò contro di loro, quello che volete voi. Ma dice giustamente Sconcerti, resta il fatto che se cacciamo Tavecchio e Ventura resta il fatto che non abbiamo una nazionale perché sono delle gran pippe quelle che giocano in Italia. Altro grande tema è quello degli stranieri, devo dire che si è messa un po' in politica la questione degli stranieri che giocano nelle squadre italiane, ieri anche a 105 Matrix, Salvini ci ha raccontato del fatto che in Italia essendoci gli stranieri non crescono i giovani, ma io ho qualche dubbio, oggi ci sono dei dubbi invece sollevati dai numeri perché in Italia in effetti scendono in campo il 54,3% di stranieri, cioè sostanzialmente più di un giocatore su due che scende in campo nelle partite di Serie A è straniero, ma cosa avviene negli altri paesi? Beh, in Portogallo e in Gran Bretagna la percentuale di stranieri è addirittura superiore a quella italiana e mi sembra che le due squadre giochino meglio della nostra e in Germania il percentuale di giocatori stranieri è al 48,6% che vuol dire praticamente come quello dell'Italia, cioè un giocatore su due che scende nel campionato tedesco, anche se poi vincono spesso i campionati del mondo, spesso insomma come noi sono sempre considerati, erano, noi non siamo più considerati forti, sono considerati molto forti, anche in Germania sostanzialmente uno su due dei giocatori che scendono in campo sono stranieri, va bene? L'altra questione legata ai campionati di calcio del mondo che perdiamo è la cosa incredibile che è avvenuta nella RAI, la cosa incredibile è che per agevolare, voi dovete sapere che in seconda serata, io purtroppo ne sono vittima e qualche volta ne godo, ma soprattutto vittima, se la prima serata fa il 48-50%, quello che segue dopo con un effetto di trascinamento va molto bene, quindi si dice che la seconda serata dipende molto dall'andamento della prima. Cosa è successo? Che dopo una partita che ha fatto il 48,4% di share, cioè la partita di RAI 1 dell'Italia che hanno visto un italiano su due, Fazio, che era subito dopo la partita, invece di mettere tra la partita e Fazio, come avviene per esempio a Mediaset, mezz'ora di highlights, cioè i commenti, i gol che non ci sono stati, ma insomma in genere si mette dopo la partita, questo cuscinetto di mezz'ora, che purtroppo però, per quello che viene dopo, fa sì che si diluisca l'ascolto, quindi tu c'è il 48%, poi c'è questo cuscinetto di highlights e poi sarebbe dovuto arrivare Fazio. Cosa ha fatto il paraculo? Invece di fare gli highlights sulla partita più importante per noi del mondo, di cui oggi i giornali tutti quanti parlano, ha fatto 5-6 minuti di highlights per portarsi a casa più possibili ascoltatori. Il risultato è che lui ha fatto un po' meglio della settimana scorsa, come nota oggi un pezzo del fatto, ma che tutti i giornalisti sportivi della Rai sono furibondi perché dicono, ma come? Non andremo ai mondiali, è la partita più importante della storia del calcio italiano negli ultimi 60 anni e voi gli date soltanto 5 minuti di highlights e andate sul Rai Sport. Insomma è stata una scelta considerata molto profazio e molto contro l'interesse dei telespettatori. Affari loro perché noi stiamo da un'altra parte. Riguarda ai conti economici, il vicepresidente della Commissione UE, il finlandese Katainen, la Finlandia è praticamente più o meno una città italiana, neanche fa il fatturato, il PIL di Milano, si permette di dire che i nostri conti sono falsi. Beh, verissimo. Se lo dice il vicepresidente della Commissione UE ci sarà da credergli. Quello che è sicuramente falso è tutta la pompa sull'aumento del PIL italiano che sarebbe cresciuto dell'1,8%. Il terzo trimestre del 2017 rispetto al terzo trimestre del 2016, cioè su base annua, sarebbe cresciuto tra un trimestre e l'altro, tra gli stessi trimestri tra 2017 e 2016, dell'1,8%. Si tratta della crescita del PIL e della ricchezza italiana più alta degli ultimi sei anni. Quando poi però vai a vedere bene le tabelle, ti accorgi che il PIL italiano è cresciuto non solo meno della media europea, che è del 2,5%, quindi noi cresciamo 1,8%, la media europea è 2,5%, ma tu dici che nell'Europa ci sono anche piccoli paesi, la Finlandia, una di queste, che si permette di pontificare, o l'Estonia, o paesi molto piccoli, che crescono molto più dell'Italia, ma hanno poco significato. Però io vado a vedere quanto è cresciuta la Spagna, del 3,1%, nonostante tutti i casini della Catalogna. La Francia, nonostante le tante critiche che si fanno nei confronti della burocrazia francese, è cresciuta del 2,2%. La Germania, che continua a crescere da dieci anni imperterrita, è cresciuta del 2,8%. Quindi è vero che la crescita italiana è la più alta degli ultimi sei anni, ma è la più bassa dei nostri competitor europei. Se continuiamo così, l'economia spagnola ci supererà. Ultima questione, secondo me straordinaria. Sì Silvia, ci sarò a Book City, presenterò il libro di una mia amica sulle scandali bancari. L'ultima questione, che secondo me è straordinaria, è che è stato arrestato un esponente del Movimento 5 Stelle. Dove? In Sicilia. Cosa faceva? Era candidato alle elezioni regionali. Era impresentabile? No, era presentabilissimo. Ci sono le foto sue con Di Maio, Di Battista. Era il cicerone nella Valle dei Templi di questi due grandi leader nazionali. Si chiama Fabrizio La Gaipa, 42 anni, albergatore. E' stato arrestato perché, secondo la procura, avrebbe obbligato alcuni suoi dipendenti a firmare il falso riguardo alle buste paga. Cioè gli dava, invece che 1000 euro, che è il minimo contrattuale, 800 euro. E questi dovevano firmare di aver ottenuto 1000 euro come minimo sindacale. Invece ottenevano molto di meno. Quindi firmavano il falso, erano obbligati a firmare il falso. E dunque è stato arrestato per estorsione. Ed è il primo dei non eletti nella sua provincia per il Movimento 5 Stelle. Con 4354 voti. Fabrizio La Gaipa. Per quanto mi riguarda, questo, finché non verrà condannato, è innocente. Questo del Movimento 5 Stelle è innocente. Però io agli amici del Movimento 5 Stelle, che ci fanno due palle così sugli impresentabili, che hanno fatto la loro campagna elettorale sugli impresentabili, dico che sono dei farisei. Sono dei farisei. Perché gli impresentabili, purtroppo, possono esserci ovunque. E gli impresentabili, ci sono delle leggi che quando vengono condannati, non come il caso del loro Fabrizietto, che è soltanto stato arrestato e non condannato. Quando verranno condannati, c'è una legge che impedirà loro di governarci. Ma fino a quando non sono condannati, non sono impresentabili. Sono presentabili che gli elettori possono più o meno votare. Una volta che poi ci si rende conto che sono condannati, ovviamente la legge Severino li fa fuori. E' stato arrestato uno del PD, uno del Movimento 5 Stelle e uno del PDL, del centrodestra, cioè dei centristi. Tra l'altro, quello del centrodestra, mentre veniva arrestato, veniva assolto per una vicenda di quattro anni fa, che era l'unica per la quale veniva considerata impresentabile dal Movimento 5 Stelle. Allora, questa è la questione farisaica del Movimento 5 Stelle, che fanno i fenomeni. Poi, quando gli arrestano un loro rappresentante, improvvisamente stanno zitti e muti. E tra l'altro, voglio sapere, cari amici del Movimento 5 Stelle, che ci avete fatto due palle, così, sul fatto che i giornali non parlano degli impresentabili del centrodestra. Vi segnalo che oggi Corriere e Repubblica non parlano minimamente in prima pagina del vostro arresto. L'arrestato del vostro amichetto, quello che faceva da guida di Battista e di Maio, candidato alla presenza del Consiglio italiano, bene, quello faceva da guida, ci sono le loro foto tutto compiaciuto, questo che è stato arrestato non è citato nelle prime pagine dei giornali. Non si fanno grandi, cioè, non stanno indulgendo i giornali su questo. Quindi, dove stanno le vostre polemiche sui giornali, i giornalisti che dovrebbero essere mangiati e poi vomitati, come ha detto Grillo? Vado avanti sul Movimento 5 Stelle, perché non siamo arrivati alla fine. Ti immagini che il giornale del Movimento 5 Stelle, Travaglio, che per la verità in prima pagina cita la questione del Movimento 5 Stelle, oggi si occupi di questa vicenda, come se occupato del fatto dello scandalo che si parli solo dell'Appendino e non di Zingaretti, che si parli solo della Raggi e non di Sala, cioè che i grandi giornali parlino soltanto dei candidati del Movimento 5 Stelle, degli Etti 5 Stelle e non degli altri sindaci. Allora, vi voglio chiedere una cosa, perché oggi invece Travaglio, magari se ne occuperà domani, si occupa di Fassino? Oggi Travaglio si occupa di Fassino, non del fatto che uno del Movimento 5 Stelle viene arrestato in Sicilia, che secondo me è una notizia, posto che il Movimento 5 Stelle in Sicilia ci ha fatto due palle così sugli impresentabili degli altri partiti e non è riuscita a capire che nel suo partito c'era un impresentabile, secondo i canoni ovviamente del Movimento 5 Stelle. Io questa è la cosa, la trovo una delle tante, grandi, enormi ipocrisie italiane. Come è ipocrita l'idea che Orlando sia attaccato, il Ministro della Giustizia, perché dice che Grasso e Boldrini sono due presidenti che fanno parte dell'opposizione politica. Ha perfettamente ragione, c'è poco da discutere su Grasso e Boldrini che fanno parte dell'opposizione e cercano un seggio dell'opposizione e loro rispondono, noi sempre imparziali, ma Orlando ha detto un'altra cosa, ha detto una cosa che tutti noi condividiamo. Altrettanto vi voglio segnalare il fondo di Sallusti, che è un altro fondo scritto banale, fantastico nella sua limpidezza che nessuno riesce a cogliere. Brizzi viene considerato un porco, ci sono delle accuse, altri lo difendono, ma viene già condannato dalla stampa e sicuramente condannato dalla Warner che distribuirà il suo film che sarà sicuramente un successo a Natale. Va bene, uno di quei cine panettone. Allora dice Sallusti, scusatemi ma spiegatevi una cosa, Il porco, presunto, Brizzi non può firmare quel film perché voi non mettete il nome e cognome di Brizzi, ma voi utilizzate il genio del porco per fare soldi? Cioè il genio vuol dire la capacità del porco di girare il film? E dice, siete veramente? Io voglio conoscerlo. È peggio il porco o chi utilizza il genio del porco per fare soldi? Questo si chiede, o del maiale per fare soldi? Questo si chiama Sallusti? Io direi che la risposta è molto semplice. È peggio chi usa il genio del maiale per fare soldi ai danni del maiale stesso. Ultima cosa che vi segnalo, bollette a 28 giorni, uno scandalo tutto italiano, cioè l'idea che le bollette della telefonia e di tante altre cose, anche delle televisioni, abbiano un calendario loro, il calendario tecnologico è di 20 giorni e non di 30, e secondo un emendamento del PD alla finanziaria si dovrebbe passare a una cosa normale che è quella di 30. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo questa sera a Matrix e alle 19 sulla radio. Arrivederci, ciao!